Tutto il resto è noia. Noi abbiamo chiesto, spero che su questo ci sia un'apertura. Da un lato so che non ci sarà l'abolizione dei capilista, dall'altro spero che ci sarà quella di rendere almeno opzionale il ricorso al capolista bloccato, che i singoli partiti possano scegliere se fare tutto a preferenza o se mettere il capolista bloccato e il resto a preferenza. Almeno si potrà vedere e potranno verificarlo i cittadini quanto sia autentica e profonda la natura democratica di un soggetto politico che si definisce partito. Grazie. Bene, non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto vi chiedo chiusa la discussione sulle linee generali. A facoltà di replicare il relatore di minoranza Toninelli. Cinque minuti. La ringrazio Presidente, Governo. Ancora una volta questo Parlamento, Presidente, è occupato a trattare questioni che non sono urgenti e che non interessano i cittadini italiani, ma interessano esclusivamente i partiti e soprattutto interessano la volontà dei partiti di mantenere occupate le poltrone di qui e negli anni futuri. Ai cittadini italiani evidentemente interessano questioni ben più importanti e ben più urgenti, quali ad esempio una sana legge contro il conflitto di interessi, una vera legge anticorruzione o quel reddito di cittadinanza che andrebbe ad aiutare quei 9 milioni di italiani, tra cui un milione e mezzo di bambini che oggi sono dati Istat al di sotto della soglia di povertà relativa. Sono queste le leggi che questo Parlamento dovrebbe trattare, ma purtroppo per volontà del Governo che cerca di ritagliarsi un futuro di cui i prossimi vent'anni siamo obbligati a trattare di questo. Io intervengo alla fine, Signor Presidente, perché come relatore di minoranza ho avuto destinati solo cinque minuti. Mi sembrava più corretto ascoltare gli interventi dei colleghi prima di quello del sottoscritto e averli ascoltati mi porterebbe a pensare, Signor Presidente, che questo Parlamento rappresenta ancora le istanze del territorio, rappresenta ancora le volontà dei cittadini di parlare e di poter difendere la democrazia, perché se facessimo una statistica, una percentuale, quelle persone, quei rappresentanti del popolo che oggi sono intervenuti sono per la maggior parte più contro la volontà del Governo di portare a casa con forzature regolamentarie della Costituzione, probabilmente, come si dice e si scrive sui giornali, sono per la maggior parte contro, dicevo, appunto questa iniziativa del Governo. Ma, ahimè, queste voci all'interno del Parlamento sono le voci di coloro a cui, in buona parte, il Presidente del Consiglio ha messo il bavaglio, sostituendoli addirittura, io affermerei, espellendoli da quella Commissione all'interno della quale le medesime istanze, la medesima competenza giuridica, la medesima onestà intellettuale avrebbero potuto portare in Commissione, ad un fine molto naturale, che è il fine naturale a cui il Parlamento dovrebbe perseguire, che è quello del miglioramento delle leggi, una legge che arriva al di fuori del Parlamento su una carta straccia alcuni mesi fa, circa un anno fa in Parlamento, che non aveva le relazioni accompagnatorie, che non aveva i collegi designati, che è arrivato in Parlamento senza passare per le vie corrette dei testi normativi e che la medesima procedura ha continuato con costanti forzature. Eppure siamo obbligati oggi a trattarla e porta una governabilità in sé, signor Presidente, che non ha nulla a che vedere con la possibilità di governare questo Parlamento. Perché se la governabilità è dettata solo dei numeri che un premio di maggioranza che è già stato dichiarato in Costituzionale garantisce, questa governabilità magari data da un partito che rappresenta il 25% di chi ha votato e quindi il 10-12% di tutti gli aventi diritto al voto, e questi sono i dati delle ultime elezioni politiche, certamente non sarà una governabilità stabile, ma una governabilità drogata che porterà cittadini, comitati, altre forze sociali a insorgere per contrastare questa volontà del Governo. Una governabilità dall'alto imposta a tutto il Parlamento che è solo fatto di gli esmeni di rispondenti all'istante di un capo, che è colui che si mette sul monte, in cima al monte del premio di maggioranza, al contrario di una governabilità dal basso che invece parte dei cittadini e che si estrinseca e si trasforma in decisioni condivise e partecipate all'interno del Parlamento. Quindi non è vero che questa legge garantisce la governabilità. Noi presenteremo una serie molto limitata di emendamenti perché non vogliamo limitare, non vogliamo dare giustificazioni al Presidente e al Consiglio di richiamare il voto di fiducia incolpando altri, ma su questi in uno mi vorrei soffermare. Ed è un errore formale presente in questa legge, in cui anche importanti tecnici hanno dato conferma ma non hanno dato il coraggio di esprimersi pubblicamente. Questa legge ha una dimenticanza legislativa nel momento in cui afferma che dei 278 seggi destinati ai partiti che non hanno vinto il premio di maggioranza verranno appunto assegnati, dimenticandosi degli 11 seggi in Trentino e del seggio della Valle d'Aosta che sono assegnati con collegi uninominali e una parte con recupero proporzionale in Trentino. Ciò significa, Presidente, che questa legge se non viene modificata in questo vizio potrà eleggere se va bene 631 deputati e se va male 640. Ciò significa che bisogna intervenire. Noi non vogliamo bloccare o fare chissà che cosa, ma dire c'è un errore, correggetelo, altrimenti violate qualsiasi principio di produzione legislativa. Grazie, Presidente. Grazie a lei. L'Onorevole Quaranta ha esaurito il suo tempo. A facoltà di ripregare il relatore Iannuzzi. Rinuncia. L'Onorevole... Invernizzi. Scusi, l'Onorevole Invernizzi, mi perdoni. L'Onorevole La Russa non è presente, quindi si intende che vi abbia rinunciato. L'Onorevole Sisto ha concluso il suo tempo, però se deve... Bene, allora no. Vale la stessa cosa per l'Onorevole Migliore. Rinuncia? Ah, credo abbia un minuto, l'Onorevole Migliore. Ha concluso il tempo. Posso darle io un minuto se lei ritiene di dover intervenire in replica. Prego. Però un minuto, eh, l'Onorevole Migliore. No, no. Per rispetto all'Aula e al Regolamento, solo una precisazione. La preoccupazione che ha qui espresso il collega Toninelli è resa contata nel mio intervento che ho depositato in relazione. Quindi meno di un minuto, ma ci tenevo a dirlo al relatore Toninelli. La ringrazio. A questo punto a facoltà di replicare il Governo, il Ministro Boschi. Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, entriamo adesso nel vivo e forse nel...